Ultimo fine settimana per il Viva Festival che conclude la sua quinta edizione all'insegna dell'Avant Pop, tema del 2021 l'intervallo per celebrare la sacralità della pausa e realizzare una riflessione sul nostro tempo, unendo propensione avanguardista e grande spettacolo dal vivo. Partendo dalle comerse di Locorotondo, passando per le masserie locali inserite nelle bellezze della Valle di Tria Pugliese, Viva ha lanciato la sua line-up internazionale attraverso le maggiori community del web. Un fine settimana di concerti e DJ set per un festival all'insegna dell'Avant Pop che quest'anno è partito dai suoni transglobali di Nidia, programmati dalle comerse di Locorotondo per andare in streaming worldwide su Boiler Room, la piattaforma online di base a Londra che conta oltre 1.200.000 follower solo su Instagram e ancora Maze, uno dei nomi più importanti della musica italiana del momento, che è arrivato in Puglia con il Viva special DJ set. Questa sera John Talabot presenta il suo approccio aperto nel creare, collezionare e suonare musica che gli permette di essere a suo agio sul palco principale di un grande festival estivo come in un piccolo club locale. Mentre domani, all'alba dell'8 agosto, l'unusual breakfast a Calamasciola a Savelleti con Beatrice Dillon, un'artista e musicista londinese che esplora lo spazio liminale tra house e musica sperimentale.